abbiamo iniziato un viaggio nelle marche produttive nella puntata di domenica scorsa siamo partiti da civita nuova marche luogo simbolo dopo il triplice suicidio di un'italia che si è impoverita in poco tempo e che sta accusando il colpo della crisi il nostro viaggio per le marche per scoprire lo stato di salute del sistema produttivo oggi ci porta a Pesaro Pesaro è un centro balneare industriale l'industria manifatturiera rappresenta la principale attività produttiva della città in particolare il distretto del mobile secondo un'indagine CNA le imprese artigiane delle manifatture peserisi che si attendono un calo dell'attività produttiva sono addirittura il 41% stazionari al 53% e in aumento il 7% in provincia di Pesaro Urbino in 5 anni hanno chiuso i battenti 2000 aziende artigiane in prevalenza del mobile, della meccanica, dell'edilizia, del trasporto, del tessile questo da un lato è un dato drammatico da un lato è un dato che ci deve far riflettere molto anche per quelle che sono le prospettive per il futuro che in questo momento prevedono che per oltre il 70% le aziende che noi quotidianamente ovviamente interpelliamo ci dicono che non hanno buone prospettive per il prossimo anno di difficoltà che esiste ovviamente nel nostro territorio che fa riferimento a un importante calo dei consumi che si verifica in tutti i settori della distribuzione con aspetti che cominciano a diventare sensibili anche in quello dell'alimentazione che è il settore più importante strategico le aziende di prodotti alimentari, forni, pasticcerie, rosticcerie hanno ridotto il lavoro del 20-25% per non parlare delle attività legate alla ristorazione dove il calo ha raggiunto punte del 30% oltre al fisco è il costo del lavoro l'altro problema indicato dalle associazioni di categoria l'occupazione pesa tantissimo nei bilanci delle aziende e tra l'altro in maniera squilibrata rispetto a quello che è il reddito dei lavoratori che poi viene rispeso nei consumi e il costo per l'impresa che assume livelli quasi insopportabili e che è un freno importantissimo anche alla ripresa Cosa chiedono gli imprenditori? I nostri associati chiedono di lavorare e di poter riscuotere in questo momento hanno una grande difficoltà anche quelli che lavorano a riscuotere i propri crediti e hanno una grandissima difficoltà ad accedere al credito La via d'uscita dalla crisi segnalata dalle categorie è ancora una volta il turismo C'è la possibilità, le nostre città in queste ultime settimane hanno visto eventi importanti a Pesaro, a Gabice, a Fano c'è il prossimo Gire d'Italia che è una importante vetrina lì secondo me c'è possibilità di recuperare anche altri spazi C'è il prossimo Gire d'Italia C'è il prossimo Gire d'Italia